per rock in tv questa sera sfilata fashion show di biblos allora abbiamo visto una collezione che si ispira a un arboretto particolare possiamo dire da cosa nasce questa grande suggestione che si si vede in ogni capo in ogni outfit della collezione nasce da questo spazio a singapore che si chiama pure appunto singapore arboretum che è una sorta di spazio botanico dove qualsiasi tipo di pianta del mondo sono messe insieme quindi già è un contesto molto particolare in più quello che mi ha colpito è stato il fatto che ci sono delle architetture che si ergono nel cielo di metallo molto geometrica e sembrano quasi dei funghi delle piante di acciaio questi insieme questi contrasti mi hanno dato una grande forza creativa e mi hanno spinto a disegnare per una donna super naturale infatti comunque è una donna super naturale ma è anche una donna che può può diventare qualunque donna giusto è un qualcosa che può vestire un qualunque una qualunque danno partendo appunto da questa naturalezza da quest'idea di natura che che diventa anche struttura certo come vedi sono si capi molto studiati nel dettaglio molto particolari anche sono molto mettibili che è quello che volevo creare quindi qualcosa di estremamente creativo ma anche facile da mettere